Ciao a tutti, oggi andremo ad aprire questo box da 24 bustine per adesso vi voglio dire una cosa che mi è capitata da oggi però non vi voglio spoilerare niente, andate a vedere su Instagram il sito ufficiale della Roma iniziamo ad aprire ah, e questo box lo apriremo in due parti adesso apriremo 12 bustine e nel prossimo anche 12 bustine eccolo qua ecco qua, molto luccigante andiamo a prenderci le 12 bustine queste qua le apriremo nel prossimo video ecco queste qua saranno le bustine che andremo ad aprire adesso iniziamo subito iniziamo con la prima bustina vediamo subito che c'è un allenatore iniziamo con Rincon del Torino Mirante della Roma prima speciale del box Idolo Antonucci ecco l'allenatore ecco la nostra prima plus l'Axalt no, top plus l'Axalt del Milan il nostro primo allenatore semplici Luciano Spalletti va bene così dai andiamo con la seconda bustina c'è Pidelli del Cagliari Nui Tink dell'Udinese Gomez dell'Adalanta questo qua è l'attaccante Gattuso Tonelli Plus e la coppia imbattibile Antonucci-Paloschi abbiamo trovato già allenatore del Milan e allenatore dell'Inter Gattuso e Spalletti Diego L'Axalt però non è plus quindi è del Genoa Ceravolo del Parma Buonaventura Idolo del Milan allenatore Samu Castiego no, Samu Samuel Castiego Plus del Milan Pasalic Plus e Ancelotti allenatore del Napoli Plus con gli allenatori stiamo andando anche abbastanza bene però dai vogliamo un top player noi non vogliamo quelli allenatori qui abbiamo Giaccherini del Chievo Cristiano Ronaldo doppione però comunque pur sempre è forte Stepinski Super Draft del Chievo Zieli Ski Idolo Plus un'altra volta Pasalic Plus e che da Top Plus ok fino adesso questo qua è il pacchetto più deludente andiamo Piontec del Genoa Perotti della Roma Pulgar Super Draft del Bologna qui abbiamo l'attaccante De Zerbi Plus allenatore del Sassuolo Biabiani del Parma Plus e copia imbattibile Berardi di Francesco dai 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 me lo sento questo qua è quello buono questo qua è quello buono dai Anco della Fiorentina Perin della Juve Ciciretti del Parma un'altra volta sempre girate Ciciretti Cassie Clavan e Lucas leva Iron Man purtroppo già abbiamo due Iron Man ce ne abbiamo veramente pochi quindi spero di trovarne altri Aja Pong del Sassuolo Pellisier del Chievo Young To Young To della Samp Super Draft Stella Chedira questa qua fino ad adesso è la speciale più bella la prima stella del box Malkuit del Napoli e Velazquez dell'Ulienese allenatore dai almeno una stella abbiamo trovata dai 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 io comunque ci credo Zapata del Milan Zajic dell'Empoli Defrel della Samp Muro d'acciaio della Juve adesso stiamo salendo stiamo salendo cento di difesa Pioli allenatore della Fiorentina Saponara Lass della Samp dai 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 piano 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 ce la facciamo questi qua sono gli ultimi quattro pacchetti che ci mancano speriamo che siano fortunati abbiamo qui De Paul dell'Ulienese Cutrone del Milan Masiello Idolo Portiere Bourabbia del Sassuolo Correa della Lazio e copia imbattibile Carnezi Smeret praticamente sto perdendo le speranze Andiamo avanti Durmisi della Lazio Sepe del Parma Caldara Superdraft Gomez Stella Gervinio del Parma Bradaric del Cagliari e basta Male Male C'è l'allenatore Bonucci della Juve Nainggolan dell'Inter Pavoletti del Cagliari Mandragora del Luminese Locatelli del Sassuolo Gianpaolo Gianpaolo della Samp Basta Non è possibile Marcano della Roma Salomon della Spal Poli del Bologna del Bologna Allenatore Velazquez ancora Ballardini del Genoa e copia imbattibile Gomez Ilicic Dunque questa prima metà del box si conclude qui non sono per niente soddisfatto però ci ritroviamo con i prossimi 12 pacchetti ciao